buongiorno a tutti spesso mi chiedete se faccia bene fare sport qual è lo sport più indicato molti di voi hanno la passione come me per la corsa e mi chiedono fa bene andare a correre bene in questo video vedete dei percorsi un pochino accidentati queste trail però la mia risposta è senza dubbio una risposta affermativa fa bene andare a correre perché ci fa bene al corpo allo spirito ci fa bruciare calorie quindi attiva il metabolismo o meglio se la facciamo la mattina presto ci aiuta ad eliminare tossine ovviamente bisogna fare attenzione non è adatta a tutti come sport o meglio bisognerebbe farlo in un certo modo quindi potete cominciare con le scarpe adatte a correre magari sul verde per poi passare all'asfalto vi consiglio anche di leggere un libro che si intitola mindful running che parla di corsa e mindfulness è un ottimo libro che unisce la forma di meditazione però dinamica e movimento mentre correte quello che cerco di fare io in più se avete la possibilità come me di correre in un bosco splendido come questo che altro dire non vi mancherebbe niente a quel punto fate solamente attenzione a fare stretching prima e dopo fare un buon riscaldamento cercare più possibile di mantenere l'orizzontalità dello sguardo quindi ridurre le vibrazioni sulla colonna durante la corsa e soprattutto cercate di rispettare il vostro corpo quindi quando non ce la fate più come me in questo momento vi fermate ad un bel respiro vi godete quello che c'è intorno a voi e poi quando siete pronti ripartite buona giornata a tutti ecco qua l'ultimo sforzo oggi 13 chilometri per regalarvi questo splendido panorama dal comune di Roccapiora una bella fatica ma come prima vi dicevo ne è alzata bene grazie a tutti grazie a tutti